Buonasera a tutti, buonasera a tutti, Antonello è già in chat, probabilmente oggi saremo solo io e lui, visto che ho scelto l'orario di questo streaming tale da essere in diretta con la partita Juve-Barcellona, quindi forse è il timing un pochino sfortunato, ma va bene, ve lo potrete rivedere e vi potrete rivedere la registrazione. Allora, come prima cosa, che cosa andiamo a fare? Andiamo a utilizzare le tecniche di base che abbiamo appreso durante il corso di Adobe Illustrator che sto facendo sul canale YouTube del Creative Pro Show. Come prima cosa ho trovato su YouTube questa illustrazione di Paperino, l'ho copiata, quindi il computer l'ha copiata nella clipboard, quindi nella memoria del computer, ecco i tasti CTRL-V o CMD-V sul Mac, l'ho semplicemente applicata, ce l'ho semplicemente incollata qui dentro. Oh, c'è anche Silvano, ciao Silvano, grandissimo! Allora, ho appena incollato quest'immagine qui, ho rinominato il layer e utilizzerò quest'immagine come base di ricalco, ok? Quindi vado fondamentalmente a ricalcare quest'immagine. Questa è la tecnica che si usa soprattutto nell'ambiente professionale, ossia si fa magari prima la bozza su carta, si scansiona e si porta poi all'interno di Adobe Illustrator e quindi l'illustrazione viene ritracciata su una base realizzata precedentemente. Ok, allora adesso che cosa vado a fare? Clicco in quest'area qui, in quest'area, due volte esce fuori questa finestrella con le opzioni del layer e devo dire a Illustrator questo qui, template, cliccherò su template e Illustrator capirà che voglio utilizzare questo layer che contiene quest'immagine come template. Che cosa farà questo template? Ridurrà l'opacità del layer al 50%. Ovviamente se lo voglio ridurre di più lo posso indicare qui, quindi faccio clic su ok. Illustrator ha messo il lucchetto, questo vuol dire che non posso interagire con questo layer e come avete visto ha ridotto l'opacità del 50%. Sweetlulabye, ciao Filippo, buonasera. Grandi, nessuno sta guardando la UE. Beh, perfetto. Ok, quindi abbiamo impostato il layer come layout, quindi come template, ok? Come un layout template. E adesso andiamo semplicemente a tracciare la forma di paperino. Allora, da che cosa si comincia? Analizziamo quest'immagine. Quest'immagine ha un bordo nero esterno, il capellino è blu e c'è il becco, gli occhi e ovviamente la faccia che è bianca. Quindi cominciamo dalla figura esterna, ok? Che sarebbe quindi il nero, la sagoma. Quindi vado nei colori, scelgo il colore nero, eccolo qua. Prendo la penna, tiro fuori questo strumentino qua che mi potrebbe essere utile. E vabbè, Silvano, anche se non arrivano, non fa niente, tanto poi ci sarà la registrazione di questo live. Pochi, ma buoni. Ok. Mi avvicino con tasti Command o Control più, creo un nuovo layer, lo chiamo sagoma nera. Mi avvicino ancora un pochino, e adesso con la penna vado a tracciare la sagoma. di questo capellino, ok? Di questa parte. Come vedete, Illustrator sta riempiendo automaticamente la sagoma. Se questa cosa non vi piace, sapete già che dovete semplicemente invertire i colori, in modo da togliere quindi il riempimento, ma mantenere solo il colore di contorno. Ok? E questo, giusto così. Non preoccupatevi di fare la forma identica a quello che vedete qua, perché tanto l'illustrazione vi serve esclusivamente come una linea di base, ok? Come un qualcosa su cui vi volete basare, quindi non serve che la facciate proprio uguale, identica. Quindi, come vedete, sto semplicemente ricalcando tutta la forma nera. Magari qualcuno avrebbe pensato che prima mi potevo fare il capellino, poi il becco, poi gli occhi e tutto il resto. Certo, anche quello è un approccio. Si può fare, ognuno può avere il suo stile. In questo caso, in questo tipo di illustrazione, io preferisco questo approccio. Questo approccio mi sembra molto più semplice e immediato. Ok? Quindi ecco qua i baffettini e chiudo alla fine questa zona qui. Ok? Vediamo in chat. Ok, abbiamo ancora l'ultimo messaggio di Filippo. Se qualcosa non vi è chiaro, basta che me lo chiedete in chat. Ok, a questo punto che cosa posso fare? Posso invertire i colori ed ecco qui che ho fatto la sagoma. Ok? Quindi ecco qui la sagoma. Qual è la seconda cosa che vado a fare? Nascondo il layer della sagoma, creo un altro layer e lo chiamo cappellino. Perfetto. Adesso prendo il cappellino, vado a prendere un colore azzurrino per il cappellino. Potrei anche campionarlo da qua, ma io me ne vado a scegliere uno personalizzato mio. E adesso traccio esattamente come ho fatto poco fa la sagoma del cappellino. Ok? Quindi vedete è semplicissimo. Inverto di nuovo il colore. Con il tasto Alt indico la direzione. E con il tasto Alt di nuovo indico la direzione. Ok? Io sto usando la penna in maniera un pochino più avanzata rispetto a quello che ho spiegato nel corso. Ossia io indico la direzione nel mentre sto facendo la curva. Chi sta iniziando invece faccia esattamente come ho spiegato nel corso. Ok? Ah, perfetto. Ci siamo quasi. E chiudo così. E quindi inverto. Andiamo a vedere che cosa abbiamo fatto. Quindi ho il mio cappellino e adesso attivo il layer sotto. Ok? Quindi questa è la prima parte della nostra illustrazione. Ti sento col volume basso solo io? No. Probabilmente perché sto parlando io a bassa voce. Perché sono super concentrato su quello che faccio. Ok. Non è altissimo il volume. Adesso mi sentite un po' meglio probabilmente. Vero? Ok. Fatemi sapere in chat se mi sentite più alto adesso. Ok. Allora, adesso nascondo questi due layer. Li blocco. Così non rischio di spostarli. E vado a fare la parte bianca. Ok? Quindi scrivo faccia. Prendo di nuovo la penna. Vado a prendere il colore bianco. In questo caso non inizio però dal colore bianco. Lo cambierò in un secondo istante. Prendo ad esempio un giallo, un arancione. Ok? Un colore ben visibile. E inizio a fare la faccia. Ok? Quindi ecco qua. Ora vi faccio vedere come si può lavorare tranquillamente con i colori attivi. Ecco qui. Ok? Quindi io trascino, alt, indico l'altra direzione. Alt e indico l'altra direzione. Ok? E' un altro modo. E' un modo un pochino differente di lavorare con la penna. Io mi sono abituato a farlo così. Ovviamente parliamo di un qualcosa di creativo. Quindi ognuno può usare questi strumenti come meglio crede. Ok? Ecco qua. Indico la direzione. E indico la direzione. Qui non vedo assolutamente una mazza. Quindi inverto i colori e faccio lo spazio per l'occhietto di paperino. Cercate sempre di fare le curve più grandi che potete. Di distanziare i punti più che potete. Ok? Evitate magari di fare un punto qui quando lo avreste potuto fare immediatamente. Esattamente in questo punto qua. Perfetto così. Ok. Ci siamo quasi. Mi avvicino un pochino con lo zoom così vediamo meglio il dettaglio in queste parti. Quindi se volete stare attenti ai dettagli cercate ovviamente di fare zoom. Ok? Io me la sto prendendo un po' comoda. Perfetto così. Ok. Perfetto. Adesso si sente meglio. Sono contento. E questa è la seconda parte. E ovviamente passo dal giallo al bianco. Attiviamo gli altri layer. Ok. La nostra illustrazione sta uscendo fuori. Niente male. Ok. Che cosa manca adesso? Mancano gli occhi e manca il becco. Perfetto. Allora io direi che possiamo fare il becco. Un nuovo layer. Lo chiamo becco. A questo punto ci prendiamo un arancione. Ad esempio questo. Così. E andiamo a fare il becco. Come vedete non sto facendo niente. Di nuovo ho scelto questo esercizio apposta. Perché è un esercizio che ci insegna a lavorare correttamente con l'ordinamento dei layer. Ci insegna a gestire bene i colori. Ci insegna soprattutto a utilizzare la penna. Che quella la odiano proprio tutti. Ma ci vuole solo un pochino di pratica. Ok. Ci siamo quasi. La prima parte del becco è quasi fatta. Illustrator all'inizio può spaventare un po'. Può sembrare che sia molto complesso. In realtà nel 70% dei casi userete sempre gli stessi strumenti. Perché poi ognuno di voi tenderà inevitabilmente a specializzarsi in qualcosa. Chi farà magari le illustrazioni, chi farà l'iperrealismo come ho spiegato varie volte nel corso che abbiamo anche nello store. Andiamo a vedere questo becco come è uscito. Carino. Chi farà magari solo dei layout. Chi progetterà magari solo i marchi. E così via. Ok. Quindi ognuno avrà le sue priorità nell'utilizzo di Adobe Illustrator. E ovviamente utilizzerete più o meno sempre gli stessi strumenti. Ok. Quindi becco fatto. Clicchiamo anche su questa linea. Becco fatto. Qui guardate la particolarità. All'interno del layer becco, visto che ho due forme, Illustrator ha creato ovviamente due layer. Uno per la forma in basso e uno per la forma in alto. La seconda forma fatta viene posizionata sul layer più alto. Ok. Quindi ogni volta che fate un qualcosa di nuovo viene posizionato ovviamente su un layer più alto. Perfetto. Nascondiamo anche questa cosa. Creiamo un altro layer. Le maschere ancora non ve le ho spiegate quindi non le farò. E chiamiamolo Naso. Naso. Tipo Naso, sì. Naso perché vado a fare questi buchettini al naso che ha. Che ha Papperino qua. Ok. Quindi facciamo una cosina del genere. Facciamone un'altra qui. E facciamo quest'altra qui. Ok. Quindi una cosina come questa. Perfetto. Anche lui lo nascondiamo. E ci siamo quasi ragazzi e ragazze. Abbiamo occhi. Passiamo agli occhi. Super Mega Robby in design decisamente più complesso. Sì e no. Nel senso, sai, qualsiasi cosa è complessa quando hai un'idea. Quando hai un'idea immaginaria di quel oggetto. In realtà InDesign ha pochissimi strumenti ed è fatto per impaginare. Quindi io penso che una volta che hai imparato Photoshop, una volta che hai imparato Illustrator, passare a InDesign è estremamente semplice. Se inizi in assoluto con InDesign, sono assolutamente d'accordo con te. InDesign può intimorire decisamente. Soprattutto tutte le strumentazioni di publishing, quelle nuove che ci sono, assolutamente possono creare un pochino di confusione. Soprattutto per chi non ha la minima idea di come funziona l'impaginazione, ad esempio. Come è la struttura dei libri, come è la struttura delle pagine, come si deve ordinare tutto il materiale per riuscire a fare insomma qualcosa di valido. Però anche lì sono assolutamente convinto che dipende da chi te lo insegna. Io ad esempio l'ho imparato da solo e solo impaginando una rivista per lavoro l'ho imparato a usare davvero bene. Ovviamente non ho studiato tutto InDesign perché, come ho detto poco fa, di ogni software utilizzerete la percentuale del software che vi serve per il lavoro che dovete fare. Io impaginavo la rivista e quindi utilizzavo gli strumenti proprio base per riuscire a impaginare una rivista. Quindi magari non lo utilizzavo, forse un 40% di InDesign. Ok, abbiamo fatto gli occhi ragazzi. Quindi a questo punto abbiamo... Andiamo a vedere che layer abbiamo. Abbiamo paperino, sagoma nera, cappellino, faccia, becco, naso e occhi. Ok? Quindi questa è la prima cosa che vi ho detto all'inizio di questo streaming. Streaming, un po' inglese. Dovete analizzare l'illustrazione che avete davanti a voi e mentalmente, come si fa un po' anche nel 3D, riuscire a separarla in pezzi. Ok? Quindi abbiamo avuto la sagoma, il capellino, la faccia, il becco, il naso e gli occhi. Ok, et voilà, abbiamo paperino, paperino davanti a noi. Quindi ci sono un po' di errori qua. Eccolo qua. Quindi io in uno dei corsi precedenti che avete visto vi ho spiegato il tasto Command o Control Y. Questo ci fa vedere solo la sagoma, ok? Quindi solo il wireframe di tutto quello che abbiamo fatto. Prendiamo la freccetta bianca, clicchiamo su questo punto e vediamo appunto che qua c'è qualcosa che non va, ok? Anche di nuovo così. Quindi fondamentalmente basterebbe spostare questa curva. E... Ups, scusate. Ok. Allora, abbiamo detto di spostare un pochino questa curva. Mi sposto un po' più giù. Se Illustrator si decide di spostare. E spostiamo anche un pochino questa curvetta qui, come più ci piace. Se ancora non vi convince qualcosa qua, semplicemente riprendiamo la penna, clicchiamo su questo punto. E a questo punto possiamo gestire anche questo punto in questa posizione. Se vogliamo rifinire maggiormente, quindi fare una cosina un po' più... Un po' più carina, un po' più pulita, quindi alineiamo queste due alette qua. E probabilmente qua mi farebbe comodo un altro punto. Quindi inseriamo un altro punto così e spostiamo un pochino anche questa zona qua. Ok, e così mi sono creato. E magari anche questo occhio. Lo riposizioniamo un po', alziamo. Ok, quindi questo è il bello di Adobe Illustrator. Potete rifinire sempre quello che avete fatto. E soprattutto, ovviamente per chi ha appena iniziato con Illustrator, questa è la cosa più bella di tutte. Non sgrana mai. Quindi io qui l'ho fatto all'interno di un foglio A4, però voi in realtà questo lo potete prendere e espandere quanto vi pare, stamparlo anche su un palazzo e non perderà mai di qualità. SuperMegaRobbie mi scrive, ho fatto sei anni di scuola grafica e ho imparato ad usare tutta la suite Adobe, un po' a scuola e un po' per conto mio. Ti faccio i complimenti per la chiarezza con la quale spieghi. Grazie mille, mi fa tanto piacere questo commento, lo apprezzo davvero tanto. E soprattutto complimenti per i sei anni di studi e per l'impegno. L'impegno è la cosa più importante, penso che ci sia, la passione che abbiamo, no? Anche perché io penso per i primi cinque anni di lavoro, quando ho iniziato a lavorare, i miei mi dicevano, ma perché non ti trovi un lavoro vero? Perché fondamentalmente la gente non capisce, non capisce quello che vogliamo fare, non capisce lo spirito con cui facciamo quello che facciamo. Allora, avete visto come si realizza Paperino? A questo punto potete aprire un'illustrazione qualsiasi. Vi consiglio chi inizia di scegliere un'illustrazione dalle tinte piatte, quindi un qualcosa di simile a questo. Quindi evitate in questa fase del corso le sfumature, evitate sovrapposizioni particolari, quindi soprattutto si potrebbe dire sì, evitate le sfumature. Provate a scrivere semplicemente su Google Paperino, esce fuori un boato di cose e provate semplicemente a vetorializzarlo in questo modo. Vi garantisco che dopo che avete finito vi sentirete enormemente soddisfatti. Soprattutto, appunto come ho detto prima, chi tra di voi ha appena iniziato con Adobe Illustrator. Ok? Antonello dice a me ancora lo dicono. Eh sì, Antonello, lo so, è così. È così. Comunque, grazie ragazzi per aver seguito questo streaming. I nostri 20 minuti sono passati. Vi auguro una buonanotte o buongiorno per chi magari sta guardando questo streaming come registrazione. Per oggi da martedì è tutto. Verso la fine di questa settimana comincerò a caricare la seconda parte del corso di Adobe Illustrator nel quale cominceremo ad approfondire cosine un pochino più serie. Così vi porto avanti con le vostre skills in Adobe Illustrator. Ancora una volta, grazie per aver seguito lo streaming e ci vediamo prossimamente. Se vi è piaciuto, like, commento, share, insomma, la solita cosa. Grazie mille. Ciao.